Il governo del Partito Democratico Il governo del Partito Democratico Il governo del Partito Democratico Termoli, dopo la conferenza stampa del Presidente, parte la campagna per la prossima stagione. I giallorossi puntano a rafforzare la squadra. Buon pomeriggio dal telegiornale di Telemolise, edizione delle 14, che apriamo parlando di lavoro di emergenza. Lavoro purtroppo con i dati che sono negativi e continuano ad esserlo. Lo ribadiscono i sindacati, la UIL, nella fattispecie oggi, ma anche, e questo è abbastanza sorprendente, i giovani del Partito Democratico, del principale partito, cioè della coalizione di centro-sinistra che sostiene il Governo regionale. Partiamo proprio dalla UIL, dalle critiche, dagli attacchi all'indirizzo del Governatore Frattura. Ce ne parla in questo servizio Giovanni Minicozzi. Manca completamente un'idea forte, un'analisi dei problemi, una chiara identificazione delle soluzioni, e manca la scelta di un percorso. Del Presidente Tentenna e dell'andamento ondivaco dell'amministrazione regionale, non ne possiamo davvero più. Parole di fuoco scritte su una nota inviata alla stampa dal segretario confederale della UIL, Mauro Sasso, e scagliate contro il Presidente della Regione, Paolo Frattura. La scintilla l'aveva innescata proprio il Governatore, sempre più ostinato a risolvere la crisi della gamma, affidando alla gestione dell'azienda due cooperative. Per la UIL, invece, si tratta di un cambio di rotta inaccettabile. Una settimana fa, ha spiegato Sasso, eravamo tutti d'accordo a ricercare soluzioni per il lavoro con il Governo nazionale, attraverso il riconoscimento dell'area di crisi Boiano-Venafro. Avevamo valutato positivamente i contatti intrapresi con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha aggiunto il segretario della UIL, annunciando che i lavoratori sono pronti a marciare su Roma e ottenere 200 milioni di euro dai fondi nazionali e comunitari per attrarre investimenti dei privati, risolvere il problema occupazionale e le crisi dei grandi gruppi industriali, tra i quali la GAM, la ITR e il settore auto. Dopo 48 ore, invece, il Presidente Tendenna, ha attaccato Sasso, cambia rotta e racconta al mondo intero che l'unica soluzione per rilanciare la GAM sono le cooperative, poi l'affondo dello sconsolato sindacalista. Come altre volte, ci troviamo nuovamente dinanzi ad idee in libertà, semplici e deboli, che producono solo incertezze e incoerenza rispetto a un disegno strategico quanto mai necessario per fare uscire il Molise dalla grave situazione di crisi in cui è precipitato. Dunque, la UIL a muso duro, ma anche CGL e CISL suonano la sveglia al Governo regionale e, in particolare, al Presidente Paolo Frattura sul riconoscimento dell'area di crisi. Non c'è temo da perdere, sottolineano i tre sindacati in modo unitario. Non ci sono alternative. Altre soluzioni hanno il fiato corto. atteggiamenti diversi significano colpevoli disattenzioni all'emergenza Molise. Dunque, come avevamo previsto, dopo la grande manifestazione del 28 giugno, il sindacato è uscito dal bunker e ha lanciato la sfida a Paolo Frattura. Peraltro, secondo i beni informati, su questi temi il maggiore alleato di CGL e CISL O'UIL sarebbe il Vice Presidente della Giunta regionale, Michele Petraroia, che avrebbe preso le distanze dal Governatore. Forse c'è da sperare che il Molise esca finalmente dall'etargo sulle grandi questioni legate all'emergenza e al lavoro. È uno scossone politico, soprattutto quello provocato dai giovani del Partito Democratico che chiedono al Governo regionale risposte immediate sui temi di cui abbiamo sentito parlare nel servizio poco fa. Innanzitutto, la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Fa rumore il fatto che a sollecitare, a provocare questo scossone, siano stati giovani del PD, il partito principale che sostiene la maggioranza. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. La disoccupazione in particolare quella giovanile in Molise ha assunto tutte le caratteristiche dell'emergenza, una situazione che quasi non fa più notizia. Ma se l'allarme arriva dal PD, il maggiore partito che governa la Regione, è questa la vera notizia. Perché in una nota il segretario giovani democratici del Molise, Davide Vitiello, ha suonato la sveglia al Governo regionale in testa il Presidente Paolo Frattura, chiedendo l'immediata convocazione di un Consiglio regionale monotematico. L'obiettivo è quello di integrare in un unico pacchetto di misure il Piano Garanzia Giovani con gli altri strumenti di diretta disponibilità della Regione, ha suggerito Vitiello, per assicurare una risposta allo stato di rassegnazione e di sfiducia che coinvolge sempre più giovani molisani. Dati allarmanti e non da oggi quelli diffusi sulla disoccupazione giovanile in Molise. Nella fascia di età compresa tra i 14 e i 29 anni, ha spiegato l'esponente del PD, il tasso di disoccupazione è arrivato al 43,8%. Sono 13.000 ragazzi che non studiano e non lavorano, un record negativo che di fatto pone il Molise agli ultimi posti in Italia. Parole che pesano e che chiamano direttamente in causa il governo regionale, un governo che i giovani democratici del Molise invitano a fare in fretta. Non c'è più tempo da perdere. In Calzato Vitiello vanno messi in atto tutti gli interventi necessari per scongiurare la perdita di intere generazioni di giovani molisani e la pressoché totale desertificazione sociale di un Molise in stato di agonia. Eppure l'assessore regionale al lavoro continua a pubblicizzare misure e interventi a sostegno dell'occupazione giovanile ma dei risultati sperati, neppure l'ombra. Le misure esistono e vanno concretizzate con azioni strategiche e tangibili, ha aggiunto l'esponente del PD, a partire dal progetto Garanzia Giovani. Alla nostra regione sono stati assegnati 7.500.000 euro per finanziare interventi ad oltre 15.000 giovani tra i 15 e i 29 anni da impegnare in percorsi di orientamento, formazione e sostegno dell'auto, imprenditorialità. Infine l'invito alla collaborazione tra tutte le istituzioni. Da questa emergenza si esce solo con l'unità di tutte le forze istituzionali, politiche e sociali. La risoluzione della questione, ha concluso Vitiello, non può che essere punto prioritario del patto per il lavoro. Un patto sollecitato da più parti ma che al momento resta solo una parola drammaticamente vuota. Difficoltà, situazioni di difficoltà anche nel settore pubblico, parliamo della Biblioteca Albino di Campobasso, una delle poche strutture, anzi la sola struttura in grado di fornire alla cittadinanza il servizio pubblico appunto di lettura e i dipendenti della provincia subentreranno a quelli in scadenza di contratto per garantire, per continuare a garantire questo servizio. Almeno queste sono le prospettive ipotizzate in via Roma. Ce ne parla Marcella Tamburello. In un Molise che ogni giorno perde pezzi e dove chiudono le porte sempre più aziende e società creando nuova disoccupazione, la crisi economica non si arresta. Tra gli ultimi enti in difficoltà per mancanza di fondi c'è anche la Biblioteca Provinciale Albino di Campobasso. Per 6 dei 12 lavoratori i contratti scadenza il 31 luglio non saranno rinnovati. Si tratta dei dipendenti addetti al front office e che garantiscono l'apertura della Biblioteca da lunedì al sabato mattina e 4 pomeriggi a settimana. La soluzione per scongiurare la paventata chiusura della Biblioteca decisa dalla stessa provincia di Campobasso e comunicata dal presidente De Matteis dovrebbe essere la sostituzione dei 6 lavoratori della cooperativa con 4 dipendenti della provincia. Dipendenti che dovranno essere formati per garantire gli stessi servizi offerti oggi al pubblico che ogni giorno frequenta la biblioteca unica nel capoluogo e che dovrebbe essere quindi difesa sfadatratta sia dalla regione ma soprattutto dall'amministrazione comunale che detiene a Campobasso un pezzo di storia e di cultura. Con la sostituzione dei lavoratori della cooperativa con i dipendenti della provincia quindi si terrà in vita l'Albino ma il servizio sarà ridimensionato. Con molta probabilità l'apertura della biblioteca sarà ridotta da lunedì al venerdì mattina e solo due pomeriggi a settimana. Pare quindi che con questa soluzione ci saranno nuovi disoccupati in Molise ma il servizio della biblioteca provinciale dovrebbe essere ancora garantito ai tanti studiosi che ogni giorno si riversano all'Albino per consultare un libro per prendere in prestito un volume o semplicemente per leggere un giornale. Situazione di difficoltà davanti allo stabilimento dello zuccherificio di Termoli le barbabietole sono state già trasportate nella struttura ma l'accensione dei forni tarda ad arrivare e così si susseguono gli incontri e i vertici ma non sta venendo fuori nulla tant'è che i bieticoltori si sono rivolti al ministro Martina dicendo che le barbabietole stanno marcendo. Sentiamo Fabrizio Chionero. Primo incontro con i dipendenti per il nuovo amministratore unico dello zuccherificio con una lunga esperienza in Fiat alle spalle Francesco Fusco ha preso il timone dell'azienda dopo le dimissioni del manager Alberto Alfieri. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione e mi sono presentato. Per ora il nuovo amministratore non ha aggiunto altro dopo l'incontro tenuto insieme al procuratore speciale Nicola Baranello davanti ai dipendenti che in queste settimane hanno preparato la fabbrica per iniziare una campagna che invece continua a slittare. Antonio Dilisio RSU della Flai CGL ha commentato così l'esito della riunione. Un nuovo amministratore come Baranello che ha seguito in questi mesi ci ha semplicemente illustrato quello che stanno chiedendo al Ministero che è un aiuto e un supporto a quello che è il prezzo abietro. Il prezzo abietro il prezzo zucchero attuale come vendita come l'ingrosso che facciamo noi sta intorno ai 400 euro e il 400 euro non riesce a tenere in piedi la filiera la filiera che è praticamente poi la fabbrica quello che riusciamo a vendere e a produrre paga le bietole non paga altro e quindi noi solo con questo non possiamo andare avanti. Ma si accendono i forni? Si dovrebbero accendere la campagna si deve fare in ogni modo perché abbiamo le bietole le bietole vanno ritirate ma vanno anche pagate e pagare solo le bietole non significa fare zucchero perché bisogna pagare i dipendenti bisogna pagare i fornitori bisogna pagare l'energia necessaria per poter fare la campagna. Che clima si respira in fabbrica? È un clima di preoccupazione per l'imminente campagna ma più che altro per il futuro perché abbiamo un futuro incerto noi parliamo di settembre che non sappiamo se stiamo in piedi o quello che succederà. Certamente se la campagna non la facciamo chiudiamo subito. Se la campagna si fa abbiamo questi due mesi di respiro per trovare delle formule delle formule delle strategie necessarie per poter tenere in piedi la filiera. E come dicevamo oltre all'azienda denunciano una situazione di difficoltà anche i produttori le bietole sono pronte ma stanno marcendo ha denunciato il rappresentante del cast Salvatore Montanaro che ha riferito che i prodotti sono stati già trasportati allo zuccherificio ma non si sa quando saranno accesi i forni. Abbiamo scritto al ministro Martina giunto Montanaro per denunciare che così non si può andare avanti i bieticoltori puntano il dito anche contro l'assessore all'agricoltura Facciolla dal quale hanno detto ci si aspettava un maggiore impegno e il rispetto delle garanzie che aveva assunto. E restiamo nel tema dell'agroindustria perché ricorderete sicuramente il cosiddetto progetto delle gran manze in maxi allevamento che doveva atterrare in basso Molise così tante polemiche aveva provocato. Ora dopo l'annuncio dato dal senatore del Partito Democratico Roberto Ruta che il progetto non si farà più in Molise le polemiche restano comunque sul tavolo ci spiega per quale motivo in questo servizio Marcella Tamburelli. Le gran manze sono tornate in Molise anche se non fisicamente. L'argomento delle 12.000 manze della Granarolo infatti è tornato sui tavoli istituzionali della politica regionale aprendo nuovamente le polemiche tra maggioranza ed opposizione. Polemiche alimentate dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di qualche settimana fa il 21 giugno della delibera Cipe numero 11 del 14 febbraio scorso denominata contratto di filiera con il Ministero per le politiche agricole e forestali Granmanze. Riaprire l'argomento dopo mesi di battaglie per archiviare l'ipotesi della Granarolo ha commentato il consigliere regionale di centrodestra Nicola Cavaliere equivale al fallimento del governo regionale che dovrebbe solo dimettersi e farci tornare al voto. Dello stesso parere anche gli esponenti 5 Stelle Antonio Federico e Patrizia Manzo i primi a sollevare la questione in consiglio regionale ad essere contrari alla possibile apertura di una stalla gigante in basso Molise continuano a difendere il territorio. Speriamo che la pubblicazione della delibera Cipe sia semplicemente un errore hanno detto i pentastellati ci aspettiamo ora di sapere quale sarà la nuova destinazione delle manze. Intanto anche il senatore del PD Roberto Ruta uno dei primi sostenitori del progetto Granmanze in Molise in una conferenza stampa dei giorni scorsi ha smentito il ritorno delle manze nella nostra regione confermando quanto detto dal patron della Granarolo il progetto sarà spostato in un'altra zona del centro sud molto probabilmente in Puglia. Intanto è bufera sui vaccini per combattere la lingua blu è stata definita anche blu tongue la procura di Roma ha infatti aperto un'inchiesta per verificare se i vaccini invece di debellare la malattia negli allevamenti in realtà ne avrebbero favorito la diffusione nelle indagini sarebbero coinvolti anche due dirigenti pubblici Romano Marabelli direttore generale del Dipartimento Alimenti e Sanità Veterinaria del Ministero della Sanità e Vincenzo Caporale direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise l'ipotesi siano a capo di una catena che negli anni anziché prevenire la malattia avrebbe contribuito a far strage di pecore e Ovini Parliamo del scontro sullo sfondo dell'amministrazione provinciale di Isernia nei giorni scorsi la proposta del sindaco di Venafro Antonio Sorbo di fare un passo indietro a favore di qualche esponente dei piccoli comuni della zona non è stata raccolta dal sindaco di Isernia Brasiello che invece ha annunciato l'intenzione di volersi candidare e allora con molta probabilità in campo rimarranno proprio Sorbo e Brasiello sentiamo Enzo Di Gaetano Si infiamma la lotta politica e non per l'elezione del nuovo presidente della provincia di Isernia prevista per il prossimo 28 settembre due candidati in prima file si tratta chiaramente dei sindaci dei due centri più grandi Brasiello per Isernia e Sorbo per Venafro in una sua dichiarazione a Telemolise Antonio Sorbo si è detto disponibile a fare un passo indietro ma non a favore di Brasiello bensì di uno dei sindaci dei centri minori un sistema per premiare il territorio interno e per dare spazio anche ad altre personalità non è un problema di Antonio Sorbo di Pinco Pallino ripeto una candidatura al vertice di una provincia che coinvolge 52 comuni più i consigli provinciali uscenti è un discorso che deve riguardare tutti non può riguardare l'ambizione di Antonio Sorbo di Pinco Pallino quindi io penso che se non passa l'idea di fare un ragionamento sul territorio per premiare le aree interne che hanno bisogno di un segnale e anche perché un sindaco penso di un comune minore ha anche più tempo ha anche più energie da spendere sulla gestione di un ente complicato come la provincia perché non è che è un comune la provincia io sono stato 5 anni ha un meccanismo abbastanza articolato quindi bisogna anche conoscerlo per mettere mano a queste cose per cui se non c'è quest'idea si ragiona con gli altri sindaci si ragiona sul territorio ed è chiaro che a quel punto poi se si va a fare una contrapposizione tra territorio ogni territorio vorrà dire la sua e quando si va a discutere poi nulla si può escludere però io spero che prevaga il buon senso e spero che ci sia una condivisione l'obiettivo dovrebbe essere quello di presentare un'unica lista che rappresenti tutto il territorio e che dia un riconoscimento alle aree interne ai piccoli comuni ma Brasiello non sembra essere disposto a rinunciare a quello che non per la sua persona ma per la città capoluogo di provincia è un ruolo da rivendicare ad ogni costo non si tratta di mire personali dice Brasiello ma di riconoscere a Cesare che vuol dire Isernia quel che è di Cesare Isernia è il capoluogo di provincia è chiaro che io sono il sindaco del capoluogo di provincia e quindi in qualche modo devo fare ciò che mi chiedono anche i miei consiglieri chiaramente io non sono il tipo che si tira dietro sono sempre disponibile sono sempre attento alle istanze che sento intorno a me e quindi capisco che in questo momento c'è la necessità che il capoluogo di provincia Isernia in particolare ridivendi il polo attrattivo di tutta la provincia motivo per il quale in questo momento anche di difficoltà per la provincia per il momento che stanno vivendo insomma e che leggiamo tutti i giorni sui giornali credo che sicuramente vada reso un impegno in più per fare in modo che anche la provincia possa diventare un elemento trainante per tutto il territorio insomma la lotta è aperta e Sorbo ha da tutta l'impressione di aver fatto una mossa da politico consumato dichiararsi disponibile a farsi da parte in favore di un sindaco della zona interna Brasiello non si tira indietro ed è anche giusto visto che è il sindaco del capoluogo ma Sorbo tenta di stabilire un'alleanza con i centri minori che alla fine decideranno chi tra i due contendenti si siederà al posto di Mazzuto il presidente uscente che passerà alla storia della provincia di Sernia per aver regalato alla Lega il nostro territorio si tratta di un periodo breve neanche un paio di mesi ma per 60 giorni la provincia di Sernia sullo scacchiere politico nazionale è a tutti gli effetti una provincia amministrata dalla Lega Nord e andiamo in Basso Molise per parlare di cronaca perché ci sono ormai episodi quotidiani che dicono che quello è un territorio a rischio quantomeno esposto alle infiltrazioni che arrivano da fuori regione terza rapina in una settimana questa volta presa di mira una discoteca almeno 10.000 euro il flutto del colpo messo a segno ci dice tutto Fabrizio Occhionero ha bussato alla porta dell'ufficio della discoteca quando gli ultimi clienti stavano lasciando il locale dopo una lunga serata di ballo e divertimento i gestori non hanno aperto e lui un giovane di circa 30 anni alto e robusto ha sfondato la porta con un calcio passa a montagna carato sul volto e con un pugnale affilato ha minacciato i tre responsabili che stavano facendo gli ultimi conteggi a uno di loro ha puntato la lama di quasi 40 centimetri alla gola datemi soldi non vi faccio niente ha detto il bandito dall'accento slavo almeno 10.000 euro da una prima stima che ha messo in uno zaino ed è fuggito verso un'auto a bordo della quale c'era un complice ad aspettarlo un colpo studiato nei dettagli con ogni probabilità il rapinatore che aveva una maglietta nera attillata e indossava i guanti conosceva tempi e organizzazione del locale con la sicurezza impegnata a fare uscire gli ultimi clienti dalla discoteca all'aperto che si trova su una collina lungo la strada provinciale tra Termoli e Petacciato sulla rapina indaga la polizia gli agenti del commissariato hanno ascoltato le persone presenti e tra le ipotesi considerano anche la pista locale si tratta del terzo colpo messo a segno in una settimana in Bassomorise dopo la rapina con fucili al distributore di Campomarino e l'altra compiuta da un bandito armato di pistola in una tabaccheria di Santa Croce di Magliano incidente sul lavoro a San Martino in Pensilis dove un agricoltore è caduto da una scala di alcuni metri riportando diverse fratture l'uomo di 70 anni è stato trasportato al pronto soccorso al Vietri di Larino le sue condizioni comunque non destano particolare preoccupazione parliamo adesso di turismo e di una giornata a Isernia dedicata per intero a Cuba l'isola Caraibica può offrire una serie di spunti sentiamo la nostra redazione una giornata tutta dedicata a Cuba e quella che organizza per giovedì prossimo la Camera di Commercio di Isernia l'isola Caraibica che ha oramai liberalizzato le sue attività economiche consentendo agli operatori stranieri di gestire attività imprenditoriali in piena libertà può diventare un punto di partenza per lo sbarco sul grande mercato dell'America Latina noi per il 17 giovedì abbiamo organizzato questa giornata cubana dove e ringrazio già da adesso l'ambasciata cubana è l'ambasciatrice della disponibilità facciamo questo incontro con l'ambasciatrice e con il gruppo delle persone che in effetti seguono l'ambasciatrice su questi aspetti perché vogliamo in qualche modo dare la possibilità agli imprenditori del nostro territorio di poter ottimizzare e utilizzare quelle che sono le opportunità che si sono aperte da qualche mese a Cuba perché il mercato sia aperto ecco che cosa offre la Camera di Commercio agli imprenditori della provincia di Sena che magari vogliono aprire un'attività Cuba o soffrire queste opportunità sì e la cosa molto interessante è intanto che da Cuba oltre il mercato cubano che si apre con la possibilità per gli investitori esteri di avviare delle attività in proprio mentre prima si doveva per forza di cose appoggiarsi a imprenditori cubani c'è anche la possibilità lì di utilizzare per il commercio come punto di riferimento Cuba soprattutto per Brasile e Argentina ma un po' per tutto il mondo che circonda Cuba ma soprattutto c'è anche la possibilità di sviluppare quello che Cuba può fare sia dal punto di vista del turismo e quindi della vendita dei prodotti nostri può essere sicuramente una cosa molto interessante e tornando al programma della giornata cubana non ci sarà solo l'incontro con l'ambasciatrice di Cuba ma nel programma è previsto anche un incontro con la cultura e la musica dell'isola dei Caraibi iniziamo alle 17 con la presentazione di questo progetto e di questo programma poi alle 18 ci sarà una relazione su una persona di cultura cubana poi ci sarà l'apertura di una mostra di manifesti cubani poi ci sarà la proiezione di un film che spiega un po' il mondo cubano e poi alla sera avremo anche un po' di divertimento con un gruppo cubano e dei ballerini di salsa più altre persone cubane quindi sarà proprio una serata dove si vivrà e si respirerà l'ambiente e la diciamo quello che c'è a Cuba praticamente parliamo ora di randaggismo un fenomeno che aumenta soprattutto nei mesi estivi un corso per preparare la polizia locale e il corpo forestale si è svolto a Monte di Mezzo lo ha seguito Sergio Di Vincenzo nel piano triennale di prevenzione del randaggismo della regione molise un compito importante viene affidato a chi ogni giorno è per strada e dunque ha stretto contatto con i cani abbandonati è il caso delle forze di polizia o delle guardie zoofile per consentire loro di affrontare il problema con gli strumenti e le conoscenze necessarie regione Asrem hanno organizzato un corso di formazione nella riserva di Monte di Mezzo di strada da fare ce n'è ancora molta ma con questo corso si sono fatti importanti passi in avanti è una situazione ancora ferma per quanto riguarda l'attuazione della nagra feganina che rimane il punto debole di tutta la problematica e così come un punto debole debolissimo ancora quello dei controlli per questo motivo noi abbiamo pensato di partire proprio dalla misura che prevede l'incremento dei controlli facendo questo corso di formazione il controllo del territorio nella prevenzione del randaggismo io posso dare solo dei semplici dati sono abbastate dieci giornate di attività del corpo forestale dello Stato per produrre un raddoppio del numero dei cani iscritti negli ultimi tre mesi questa è la strada giusta e questa è anche la strada più economica perché sono quelle misure che hanno il miglior rapporto costo-beneficio per il Ministero della Salute nessun dubbio il Molise partito in ritardo rispetto ad altre realtà nazionali ha recuperato il terreno perduto con la regione Molise da qualche anno c'è una intensa collaborazione la regione è stata nel 2009 oggetto di attenzione da parte del Ministero è stata anche sottoposta a commissariamento proprio per il randaggismo ma da allora è iniziata appunto un'attività di collaborazione per risolvere le problematiche tant'è vero che oggi stiamo qui ad applicare congiuntamente il piano triennale per la lotta al randaggismo con gli esperti della forestale si è parlato anche di un altro problema il rapporto tra animali selvatici e randagi noi nell'ambito dei controlli vediamo che continuamente ci sono cani che non sono registrati cani non registrati significa che ci sono delle possibili patologie che si scambiano e quindi continuamente rischiamo che ci siano dei passaggi tra le varie specie e evidentemente a rimettere sono le specie più deboli allora noi dobbiamo tenere alta l'attenzione abbiamo un territorio di grandissimo pregio di grandissimo rilevo e anche da questo punto di vista dobbiamo continuare a fare dei controlli e a far sì che le norme vengano rispettate e prima di chiudere vi facciamo vedere la foto di un gatto che è stato ritrovato oggi in piazza Molise eccolo qui è ferito e ha un collarino beige chiunque lo avesse perso o magari volesse prendersene cura può mettersi in contatto con la nostra redazione abbiamo concluso vi salutiamo e vi lasciamo in compagnia del meteo e dello sport ci vediamo intorno alle 15 per gli aggiornamenti grazie a più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti